Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto abitini e scartette, aperta parentesi quadra, pronta consegna attacco. Giacca S, larghezza 38 cm corpo larghezza 42 cm di lunghezza 37 cm M, larghezza della spalla il corpo di larghezza 39 cm 44 cm di lunghezza 38 cm L, larghezza della spalla larghezza del corpo 40 cm di lunghezza 46 cm 40 cm XL, larghezza della spalla 42 cm solo 38 40 cm larghezza della spalla 50 cm larghezza lunghezza 42 cm Ventil, larghezza della spalla 43 cm corpo larghezza 52 cm di lunghezza 43 cm camicia S. 37 39 cm larghezza del corpo 44 cm di lunghezza 60 cm M, scialle 42 44 cm larghezza del corpo lunghezza di 50 cm di larghezza 67 cm spalla 41 44 cm larghezza del corpo 50 cm di lunghezza 67 cm larghezza della spalla 40 cm di lunghezza 42 cm L, 39 42 cm di lunghezza larghezza del corpo 48 cm 65 cm X L, scialle pantaloni S, vita hip 37 cm 45 cm 73 cm Cotache M, vita hip 38 cm 48 cm 74 cm Cotache L, vita hip 39 cm cm, 52 cm 75 cm Cotache XL, vita SAR, messa a giro vita 44 cm dell'anca 54 cm Cotache 77 cm Cintura Sistemica per i zoom a cintura Onesitze Fizz al piatto 42 cm dell'anca 52 cm Cotache 75 cm GGL. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon IT, clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.